Ancora una volta voglio ricamare, richiamare, anche se ricamare non sarebbe sbagliato, se volessimo soffermarci sul mistero che si è vissuto e si vive in questa camera, che si vive nel Sacellum, il luogo, l'altare, su cui Padre Pio ha celebrato dall'11 giugno 1931 al 16 luglio 1933, gli anni in cui è stato segregato, in cui gli è stato impedito di celebrare la messa pubblicamente. Ma torniamo a vedere ancora quali ostacoli si possono frapporre nel discernimento spirituale, nel cammino spirituale della nostra vita. Nei giorni passati abbiamo visto l'abbaglio spirituale di cui il demonio è autore. Il demonio è come delle volte una sirena, che appare nel mare ai marinai, i marinai a un certo punto perseguire questa sirena, perseguire, ricordate qualche lettura, anche qualche film, perseguire questo canto irresistibile, i marinai cambiamano rotta. Ecco che cos'è l'abbaglio spirituale, il demonio che ci abbaglia, che ci fa credere di essere nel giusto, di essere nella rotta giusta, ma che poi di fatto ci sta portando da tutt'altra parte, è lontani da Dio. E quando ce ne accorgeremo, ecco, la sofferenza sarà tanto. Ma vi è ancora un secondo ostacolo dopo l'abbaglio spirituale, e che è lo scoraggiamento. Lo scoraggiarsi, mi direte, è umano, anche io mi scoraggio. Torno a ripetere, camminare nella via del Signore non vuol dire non sbagliare mai, no, perché sbagliare fa parte della nostra umanità, scoraggiarsi fa parte della nostra umanità. Ma il cristiano e chi si fida di Dio sa che comunque lo scoraggiamento, il cadere, non è l'ultima parola. È possibile riprendersi, è possibile rialzarsi quando cadiamo, ed è possibile imparare dagli errori quando noi sbagliamo. E vi ripeto quello che ho semmai detto nella puntata precedente, è che è un detto che conosciamo tutti. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Vi aspetto domani, Padre Pio Tivo, Dritto al Cuore. Ciao a tutti. Grazie.